Musica Telespettatrici e telespettatori di Rossini TV, benvenuti a Casa Rossini. Siamo, come ogni lunedì, mercoledì e venerdì, in diretta con questa nostra trasmissione che va in onda tre giorni alla settimana, dalle 10 alle 11 e 15 circa, perché poi ogni tanto qualche secondo in più ce lo prendiamo sul flusso dei ragionamenti e delle chiacchiere che facciamo con gli ospiti della giornata e che poi, lo ricordiamo subito, va anche in replica alle 16 e alle 22 del giorno stesso e alle 15 e 30 del giorno successivo. E poi c'è una lunga maratona pomeridiana la domenica che vi ripropone tutte le puntate della settimana. Siamo alla terza puntata di questa settimana, come passa il tempo veloce, e anche oggi tre ospiti dei quali parliamo fra un po'. Per ora però anticipiamo, come sempre, la puntata dando qualche indicazione sui temi, sugli argomenti, sugli eventi, sulle cose che sono successe in questo giorno particolare, una sorta di almanacco. Prima ancora, ricordo i contatti per mandarci messaggi, vocali, foto o messaggi di testo, con Whatsapp al 351 708 9977 oppure via mail a casarossini, chiocciolarossinitv.it. Tra l'altro, da qualche giorno abbiamo avviato l'idea della domanda del giorno. Oggi la domanda si trasforma in sondaggio, per cui il sondaggio del giorno oggi è colazione, doccia o salata. Andiamo sul facile. Per cui dovete semplicemente darci un'indicazione, perché siamo molto curiosi di sapere, tra i nostri telespettatori, chi opta per una o per l'altra possibilità, oppure anche magari per qualcosa di misto. È un'idea, come domanda, che mi è venuta qualche giorno fa, proprio parlando con la nostra direttrice, con la quale ci confrontavamo sulla colazione. Vi dico subito che io la faccio dolce, ma adesso mi hanno spiegato che è bene inserirci una puntina di salato per creare il famoso punto di equilibrio. E insomma, di questo magari un giorno parleremo con qualche nutrizionista che non mancheremo di invitare come ospite. Entriamo nell'almanacco del giorno. Oggi è il 15 gennaio, mancano 350 giorni alla fine dell'anno. Secondo personologi è il giorno dell'eroismo inevitabile. Tra l'altro c'è un curioso riferimento all'ultimo dei fatti di cui parleremo. Quello che avete visto poco fa era San Probo, il Vescovo di Rieti, intorno al 570. Oggi celebriamo due santi. Uno è questo San Probo, Vescovo di Rieti, e l'altro San Mauro. Siamo nel 512 circa. Un abate italiano dell'ordine benedettino, il principale discepolo di San Benedetto da Norcia, assieme a San Placido. Li vediamo sempre in queste foto che cerchiamo e che vi proponiamo dopo averle trovate sul web. Alcuni eventi storici del 15 gennaio nel 1559, per cui un bel po' di anni fa, Elisabetta Prima di Inghilterra viene incoronata nell'abbazia di Westminster a 26 anni. Allora questa è una delle foto di Elisabetta Prima, per cui da qui si deduce, visto che sono passati 500 anni, che è quella che noi chiamiamo comunemente la regina Elisabetta, pur avendo anche lei una certa età, comunque non è lei, è Elisabetta II. Ecco, questa Elisabetta II non è quella che abbiamo visto incoronata nel 1559. Ovviamente è una battuta, però qualcuno potrebbe anche rimanere nel dubbio. Nel 1967 viene disputato il primo Super Bowl. Il Super Bowl è la finale del campionato della National Football League. Negli Stati Uniti viene considerato come l'incontro che assegna il titolo di campione del mondo di questo sport. Si tiene solitamente nell'ultima domenica di gennaio o nella prima di febbraio. Registra negli Stati Uniti ascolti televisivi più alti in assoluto. L'ultimo, quello del 2020, nella notte tra il 2 e 3 febbraio, ha avuto un'audience di 150 milioni di telespettatori. Ci è concluso con la vittoria dei Kansas City Chiefs, che tra l'altro sono una squadra del Missouri, non del Kansas, sui San Francisco 49ers, oltre all'attesissimo spettacolo che succede a metà esatta della partita. C'è uno spettacolo, quest'anno era guidato da Jennifer Lopez e Shakira. La serata si è distinta anche per spot a 5 milioni di dollari per 30 secondi. Ripeto, 5 milioni di dollari per 30 secondi è il costo degli spot, tenete presente che ce ne sono anche da un minuto o da due minuti. Il primo, invece, Super Bowl di cui vi abbiamo parlato, vedeva protagonisti, anche in quel caso, i Kansas City Chiefs, che però hanno perso con i Green Bay Packers 35 a 10, anzi 10 a 35. Andiamo avanti, restiamo comunque dalle parti degli Stati Uniti. Per chi nel 1974 ha debuttato sulla rete televisiva ABC Happy Days, che poi si è conclusa dopo 11 stagioni, il 24 settembre dell'84. In Italia è stata trasmessa un po' su Rai 1, un po' sui canali Mediaset, dal 77 all'87. Per chi già avesse in testa la sigla, voglio dire che quando faremo poi, verso la fine del programma, la videodedica, utilizzeremo come musica proprio quella della sigla di Happy Days. Nel 1993 viene catturato e arrestato Salvatore Riina, il latitante arrestato dai carabinieri, mentre percorre in auto la circonvallazione di Palermo, assieme al boss di San Lorenzo, Salvatore Biondino. Riina è disarmato, non oppone resistenza. Era latitante dal 1969. Nel 2001 nasce, apparendo su internet, Wikipedia, la più famosa e consultata enciclopedia online, lanciata da Jimmy Wales, di cui abbiamo una foto, e dal suo socio Larry Sanger, che invece è quello che ha suggerito il nome. Il nome è un neologismo composto, in gergo si chiama parola macedonia, nato dall'unione della radice wiki, in havaiano vuol dire veloce, e dal suffisso pedia, che viene da enciclopedia, e che significa appunto cultura veloce. Più di 55 milioni di voci, oltre 300 lingue, si tratta dell'enciclopedia più grande mai scritta, tra i 10 siti web più visitati al mondo, e costituisce la maggiore e più consultata opera di riferimento generalista su internet. Noi stessi, per darvi queste informazioni, attingiamo spesso appunto a Wikipedia. Nel 2009, con questo siamo all'ultimo degli eventi ricordati, ammaraggio, sarebbe meglio dire affiumaggio, di emergenza sul fiume Hudson, a New York, del volo US Airways 1549. Un incidente che non ha provocato vittime, tutti i 150 passeggeri e i 5 membri dell'equipaggio sono riusciti a uscire dall'aereo, sistemandosi sulle ali e sugli scivoli galleggianti. Sono stati tratti in salvo nel giro di 24 minuti. Da questo, questo è il comandante, Chesley Sullenberg, e da questo episodio è stato tratto il film con Clint Eastwood, che qui vediamo proprio con il comandante Sullenberg, detto Sully. Il film è del 2016, diretto appunto da Eastwood, con Tom Hanks, che faceva la parte del comandante Sullenberg. C'è un dialogo durante il processo, perché poi lui ha subito anche un processo, perché è stato un eroe, ma è stato un eroe tormentato, perché lì per lì sembrava che avesse fatto la manovra sbagliata, pur avendo salvato tutti. E a un certo punto c'è una frase bellissima di uno degli ispettori che dovevano indagare sulla cosa, dice lei ha affermato di aver perso entrambi i motori a causa di un multiplo bird strike, cioè praticamente sono entrati uccelli nei motori, in entrambi i motori. E l'altro dice sarebbe un evento senza precedenti, e Sullenberg risponde tutto e senza precedenti, finché non capita per la prima volta. Questa è una frase memorabile, memorizzatela, perché vi potrebbe servire in tante occasioni. Allora, abbiamo fatto questo lungo escursus, ma oggi le notizie erano veramente tante e divertenti e interessanti. A questo punto andiamo con la frase del giorno, nelle grandi battaglie della vita, le armi più patenti sono spesso la saggezza e la comprensione. E questa frase ci serve anche per introdurre il primo ospite, al quale finalmente diamo il buongiorno. Buongiorno a Giorgio Bartolini, presidente, direttore provinciale, e confesercenti, direttore provinciale. Direttore, ciao e buongiorno. Grazie per l'invito. Mi raccomando il microfono, vicino al microfono. Buona giornata a tutti i telespettatori di Casa Rossini. Grazie a te per essere con noi, ci diamo del tu con Giorgio Bartolini, lo dico anche perché c'è una conoscenza lunga e articolata, e non lontana nel tempo, ma una frequentazione relativamente costante per varie situazioni e varie iniziative. Entriamo nel vivo, perché ovviamente dall'osservatorio, in qualche modo privilegiato, della direzione di un'associazione di categorie importanti come confesercenti, il tema del giorno forse va subito analizzato e scandagliato. Parte da Pesaro questa protesta nazionale nella giornata di oggi da parte dei ristoratori arrabbiati. I ristoratori, la categoria in generale, ha ragione da vendere. È un comparto che è allo stremo, vicino al punto di non ritorno. Attività chiusa da mesi, senza preavvisi, con limitazioni enormi che noi abbiamo contestato. una categoria che si è impegnata ad assumere i protocolli che noi nei tavoli regionali e nazionali abbiamo costruito insieme, abbiamo, e che sono stati prontamente attuati, rispettati, e quindi garantita la sicurezza dal punto di vista sanitario, che in modo irragionevole e che non condividiamo è stata sottoposta a limitazioni insostenibili. Per cui l'adesione a questa manifestazione c'è da parte di Confese recenti? No, no. Da un lato le ragioni più che sostenibili, dall'altro il metodo di comportamento. Noi siamo associazione e da decenni raccogliamo le proteste, la rabbia e la incanagliamo nei modi e nelle procedure giuste e le portiamo queste istanze nei tavoli giusti. Ed è questo il compito delle associazioni. A maggior ragione in un periodo di grande emergenza come questo, dove fenomeni di esasperazione sono molto facili da essere innescati e dove si rischia di buttare veramente benzina sul fuoco bisogna uscire tutti con grande ragionevolezza quindi con comportamenti estremamente pacati anche in queste situazioni. Ed è quello che abbiamo raccomandato ai soci che hanno recepito perché gli imprenditori sono comunque nella maggior parte persone ragionevoli. Detto questo i problemi rimangono non condividiamo queste limitazioni ma neppure quella che si sta paventando adesso che è l'ulteriore limitazione all'asporto oltre le 18 nei confronti dei bar però se restrizioni ci devono essere perché dall'emergenza sanitaria dobbiamo uscire e ne dobbiamo uscire tutti insieme se restrizioni ci devono essere i ristori non bastano bisogna cambiare passo sui benefici allora riassumendo diciamo che quello di cui stavamo parlando è questa protesta che tra l'altro ha portato Pesaro su tutti i canali nazionali che parte da Pesaro con questo ristoratore proprietario di alcuni ristoranti che cavalca appunto la protesta tra l'altro è la seconda ondata della sua protesta perché la prima era rivolta a tutte le partite IVA adesso invece ha settorializzato un po' di più e si rivolge comunque ai colleghi ristoratori questa protesta partita da Pesaro e rimbalzata dai media nazionali che vanta tra l'altro ma non si capisce bene in che termini siano verificabili adesioni fluviali parlano di 50.000 adesioni in tutta Italia ma è molto difficile da controllare viene in qualche modo da questa protesta le associazioni di categoria prendono la distanza perché non contestano il motivo perché c'è un motivo forte c'è una penalizzazione forte del comparto e del settore della ristorazione ma il metodo non è violare la regola è probabilmente stare nella regola ma ottenere visto che si sta nella regola un giusto ristoro come poi tra l'altro nel ristorante il ristoro ci sta benissimo proporzionato a quello che è la reale ed effettiva perdita d'incasso questa è l'idea esatto il concetto è proprio questo con questi atteggiamenti non si va da nessuna parte non si rischia di peggiorare la situazione quello che invece bisogna insistere nel nel chiedere dicevo prima ristori proporzionati all'effettivo danno ma soprattutto una programmazione perché spesso si è peccato di improvvisazione e anche di mancanza di informazione e di provvedimenti presi all'ultimo minuto che hanno messo in difficoltà le aziende le aziende sono strutture organizzate che hanno bisogno di programmare ovviamente la loro la loro attività e siccome la campagna di vaccinazione è stata avviata e quindi si possono facilmente programmare i tempi e i modi di intervento quello che chiediamo da tempo è una cronoprogramma della della via di uscita della via di ritorno alla alla normalità e parallelamente ripeto ristori che siano proporzionati all'effettivo danno in modo che possiamo accompagnare queste aziende alla fine dell'emergenza e dare la possibilità a queste aziende di rimanere in vita quello che è importante a questo punto è capire che la posizione dell'associazione di categoria mi sembra che siano un po' tutte allineate su questa è appunto stare nelle regole comunque consigliare e suggerire ai propri associati credo che questo riguardi un po' tutte le associazioni di categoria di stare comunque nelle regole ma di fare corpo compatto nella richiesta appunto di poter rientrare economicamente sulle perdite il discorso sulla programmazione lo vedo più complesso perché in effetti diciamocelo sinceramente questo virus ci prende in giro perché dopo un'estate nella quale sembrava che se ne fosse andato poi invece c'è stata quella che è la seconda ondata adesso in mezzo alla seconda ondata parliamo della terza la Germania che tutti guardavamo con ammirazione perché era riuscita e poi meno male l'Italia c'è sempre questa specie di sudditanza psicologica nei confronti della Germania per cui li si guarda sempre dicendo ecco vedi loro fanno bene poi però noi non vorremmo essere tedeschi però loro fanno bene la Germania si trova in una situazione più disastrosa della nostra ecco allora con un virus che in qualche modo sembra fare lo slalom tra le regole chiedere di programmare credo che sia giusto ma forse una piccola utopia probabilmente la cosa più semplice da programmare sarebbe chiudiamo tutto per un'altra volta per due mesi e a quel punto la facciamo facile ma non credo che questo sia l'obiettivo no? no no non può essere questo l'obiettivo però la priorità deve essere comunque l'individuazione di tempi di uscita da questa emergenza che ripeto siamo convinti che si possano programmare con margini di errore ma si possono programmare dal punto di vista dei tempi ma anche dal punto di vista delle risorse da impiegare oramai gli strumenti sono stati individuati fra l'altro sono strumenti che porteranno nei prossimi mesi un enorme flusso di risorse che mai si aveva avuto la possibilità di utilizzare e quindi da questo punto di vista è anche una raccomandazione che oramai è un po' sulla bocca di tutti che questa occasione unica queste risorse ingenti siano impiegate bene nel senso che siano risorse che possano andare a risolvere e comunque ad affrontare quelli che sono i mali storici nostri che sono mali che si riversano direttamente sul mondo dell'economia delle imprese voglio ricordare solo uno di questi che è la burocrazia che è stata messa nudo poi in tutta questa fase di emergenza la macchina pubblica che non funziona decreti con centinaia di pagine non so se qualcuno di voi ha mai letto un decreto uno dei decreti leggi della maggioranza per intero incomprensibili con rimandi continui ad altre normative non stavamo già bene prima da questo punto di vista non è che si navigasse proprio tra la chiarezza e la trasparenza e la limpidezza però l'emergenza ha messo nudo proprio questa cosa qua i ritardi la confusione questi sono effetti deleteri su imprese le imprese muoiono di queste cose qua quando le cose non sono chiare non si sa cosa si deve fare quando le risorse non arrivano ai tempi giusti tutti questi elementi mettono a rischio la sopravvivenza delle imprese anche su questo mi viene una riflessione le imprese muoiono perché ovviamente non possono fare il loro mestiere perché li è impedito ma non è addirittura più rischioso pretendere e magari forzare verso un'apertura che poi non avrebbe la possibilità di essere effettiva perché poi non c'è il pubblico cioè non è meglio stare in apnea stando attenti e chiedendo di essere ristorati piuttosto che chiedere di aprire e poi annaspare visto che poi anche aprendo si apre in una maniera incompleta cioè dicevo non stavamo benissimo neanche prima perché non è che dice sai veniamo da un momento talmente florido che basta rialzare il ditino che si riempiono i locali cioè la gente ha paura non c'è tanto movimento comunque ci sono delle restrizioni nei movimenti dei flussi e delle folle per cui da questo punto di vista non è meglio probabilmente cercare di pretendere appunto nel rimanere fermi o comunque nel rimanere dentro una regola di ottenere dei soldi che ci permettano di trattenere il fiato per il più lungo tempo possibile? Certo certo priorità ripeto per un'attività economica è la ripresa dell'attività perché le attività vivono di questo vivono e questo l'abbiamo indicato anche qualche giorno fa all'ennesima richiesta che abbiamo avanzato al governo quindi la priorità è di consentire in sicurezza la riapertura delle attività e questo anche ripeto rivedendo con ulteriore limitazione anche i protocolli che sono stati concordati che sono stati se non c'è questa possibilità ovviamente i ristori devono essere ripeto proporzionati devono essere in grado veramente di rimborsare quelli che sono stati gli oneri che le aziende stanno sostenendo pur essendo chiuse esatto lì la battaglia è già più chiara no? volendo diciamo che da parte nostra è chiara da parte di chi la deve recepire ancora non molto perché noi stiamo rincorrendo giorno per giorno il fatto che i provvedimenti lasciano fuori intere categorie perché non hanno il famoso codice a teco adatto e ritorniamo sentivo ieri che si parlava di un superamento di questa categorizzazione dei codici a teco ma quanto abbiamo insistito su queste cose qua e quanti codici abbiamo inserito di quelli che erano rimasti fuori perché non erano classificati al punto giusto agli agenti di commercio tante categorie che erano rimaste completamente dimenticate e poi categorie che erano rimaste aperte ma che di fatto non potevano lavorare l'ultima rivendicazione l'abbiamo fatta qualche giorno fa facendo notare che i negozi nei piccoli centri che pur essendo aperti come tipo di attività di fatto non lavorano sono effettivamente chiusi perché non essendo consentiti gli spostamenti non hanno clientela quindi di fatto questi sono equiparati ai negozi chiusi ecco tutta una serie di dimenticanze di cose che sfuggono quindi molta molta improvvisazione che non giova sicuramente alle imprese un altro dei rischi è quello di fare quello che stiamo facendo noi adesso cioè di parlare solo di questo di occuparsi solo di quello di dimenticarsi che auspichiamo tutti che si esca il prima possibile da tutta questa situazione ma magari non stiamo lavorando per essere pronti a quando si uscirà con Fesercenti questo errore non lo sta facendo giusto? no 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 perché lo dicevo prima la richiesta di cronoprogramma è anche per guidare le aziende non solo fuori dalla crisi ma anche di cominciare a immaginare una normalità che sarà comunque diversa ma che potrebbe essere sicuramente diversa perché le risorse che verranno investite sto parlando delle risorse europee permetteranno probabilmente di risolvere alcuni nodi sia dal punto di vista strutturale che del meccanismo e funzionamento della pubblica amministrazione che di andare a correggere quel gap che c'è nelle imprese fra le imprese riguardo allo sviluppo digitale cosa che penalizza molto le imprese minori rispetto alla distribuzione online insomma il famoso problema del quale si parla tutti i giorni ecco in questo senso il commercio tradizionale sicuramente è un tipo di commercio che ha futuro non è una cosa che si sta esaurendo come si potrebbe pensare vedendo un po' le chiusure che ci sono in questo ambito qua e però va ripensato va dotato di strumenti che sono indispensabili che il commercio online ha già acquisito da tempo e in questo bisogna investire risorse bisogna che i piccoli imprenditori abbiano gli stessi strumenti le stesse capacità la stessa formazione la stessa conoscenza che hanno le grosse imprese anche qua una grande scommessa sulla quale stiamo lavorando la pandemia ci potrebbe lasciare in eredità una cultura diversa non solo da parte degli operatori ma anche tutto sommato da parte dei clienti che poi sono quelli per cui si fa tutto questo l'idea per esempio che si può anche e non è un lusso riservato a pochi chiedere la consegna a domicilio l'idea che ci sono dei sistemi magari di acquisto online che però prevedono poi la consegna in casa in giornata dei piccoli circuiti cioè sono tutte cose che adesso in questo momento stanno nascendo per fronteggiare un'emergenza ma che poi potrebbero fare fare un piccolo salto culturale e ridare proprio per questo un rilancio anche all'economia locale o no? Sicuramente sono cambiati gli atteggiamenti i comportamenti un po' di tutti sono cambiati gli atteggiamenti anche delle aziende che si stanno adattando a queste nuove esigenze molti di questi servizi anche legati al lavoro a distanza al fatto che ci si limita negli spostamenti e questo cambio di abitudini le aziende li hanno già assimilati sicuramente saranno servizi che rimarranno seppur in forma ridotta anche dopo la fine dell'emergenza in questo le imprese normalmente hanno capacità di adattamento molto molto veloce proprio nella natura di impresa il problema che invece i tempi di adattamento della parte pubblica non sono equivalenti e mettono a repentaglio tutto questo cioè in pratica teoricamente gli operatori sono pronti i clienti sono pronti quello che manca è come sempre la sovrastruttura che invece va a rincorrere e a rimorchio i servizi di confesercenti per le aziende le attività associative di confesercenti questi sono un po' i temi quelli su cui si muove confesercenti ma non basta ci sono anche quelle che possiamo definire iniziative promozionali le iniziative dove ci si diverte e sai già a cosa voglio arrivare confesercenti naturalmente ha alcuni fiori all'occhiello il brodetto fest che tra l'altro è stato realizzato l'anno scorso l'estate scorsa in un momento in cui sembrava impossibile pensarlo ed è stato ripensato ed è un'altra di quelle situazioni nelle quali la pandemia ha fatto aprire a nuovi ragionamenti per cui si è passati da una formula che prevedeva i ristoranti all'aperto in zona mare grandi aggregazioni invece la formula diffusa mi sembra che sia andata anche molto bene assolutamente è un'edizione straordinaria questa manifestazione che oramai ha 20 anni che ha rilanciato la gastronomia tradizionale immagini molto suggestive del mare e sta facendo conoscere il brodetto fanese che è diventato internazionale un po' dappertutto l'edizione è organizzata sulla base dell'emergenza sanitaria quindi in modo diverso più spalmata sulla città più diffusa ha funzionato benissimo il brodetto fest è andato molto bene il fuori brodetto che è tutta la parte legata al periodo post brodetto dove si continua a degustare nei ristoranti è andato meravigliosamente bene con ristoranti pieni in un periodo in cui ancora ovviamente si poteva si poteva fare Confesercenti sta tenendo in cantiere anche tutte le altre manifestazioni ovviamente alcune sono in stand by in attesa che si esca da questa situazione qua volevo però tornare un attimo sui servizi tradizionali che sono quelli che Confesercenti assicura devo dire con professionalità da decenni che sono stati i servizi fondamentali anche nel periodo dell'emergenza cioè il fatto di poter garantire informazione prontezza professionalità in un marasma di decreti e disposizioni che si susseguivano e si susseguono ininterrottamente è stato di vitale importanza per le aziende considerando che noi stessi siamo aziende prima di tutto quindi prima di tutto dobbiamo garantire una nostra stabilità e sicurezza anche dal punto di vista organizzativo quindi doppio 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 sforzo che è stato mantenuto nessuno è stato lasciato indietro abbiamo garantito e stiamo garantendo tutto questo con molta efficacia fra questi ricordo che le associazioni coprono il fabbisogno aziende a 360 gradi il che non è non è non è facile quindi dei servizi tradizionali che sono le contabilità le paghe a tutti gli altri servizi anche innovativi fra questi mi preme in modo particolare ricordare il credito è un settore dove confesercenti nazionali penso che sia fra le associazioni più attrezzate da questo punto di vista da sempre con confidi di grandi e piccole dimensioni con società che fanno assistenza e consulenza anche al sistema bancario e ovviamente anche le imprese e anche noi nell'ambito del territorio marchigiano abbiamo il nostro confidi storico che è Fincost che presta garanzie e quindi aiuta in modo sostanziale le aziende che diversamente farebbero fatica ad ottenere credito quindi ad ottenere credito e ad ottenerlo anche in condizioni di favore perché la garanzia che aggiunge il confidi permette di ridurre il peso e l'onere sulle aziende ecco in particolare noi abbiamo lanciato alcuni messaggi di allarme la nostra Presidenta Nazionale ricordo che è uscita ad ottobre con questo grido allarme noi l'abbiamo fatto ripetutamente anche nel territorio perché in sordina il primo gennaio è entrata in vigore la nuova normativa europea sulle regole bancarie che prevede che va a stringere meccanismi che erano già stretti e pericolosi che prevede in caso di default operazioni anche di bassissima portata faccio un esempio sconfinamenti di 100 euro per le persone o 500 euro per le aziende che sono nulla per portati per più di 90 giorni consentono costringono la banca a comunicare alla centrale rischi lo stato di sofferenza dell'azienda cosa significa questo significa che per l'azienda si chiudono le porte del credito significa che l'azienda muore insomma ecco di fronte a questo che è solo l'ultimo degli strumenti che sono sulle spalle delle aziende che già erano penalizzate perché tutto il sistema di rating molto automatico il rating è il voto che viene dato l'azienda sulla base dell'affidabilità dei bilanci della storia che hanno che misura questa classificazione misura non solo il costo del denaro per l'azienda già questo è un problema perché da un rating all'altro cambia il costo ma in alcuni casi quando il rating è negativo misura proprio la possibilità o meno di ottenere il credito ecco da questo punto di vista pensando anche non solo a quello che stiamo affrontando adesso ma a quello che ci aspetta fra qualche mese l'uscita da questo stato di emergenza la fine di agevolazioni moratorie la fine della possibilità di avere garanzia a carico dello Stato e tutte queste cose messe insieme che tra qualche mese non avremo più devono mettere in allarme le aziende per questo che noi siamo molto strutturati molto preparati su questo le aziende questa cosa la devono affrontare in tempo la devono affrontare devono guardare con mesi di anticipo l'evoluzione finanziaria perché quasi sempre le aziende vanno in difficoltà su questo aspetto qua non tanto sul fatto che abbiano lavoro vendita eccetera ma le aziende vanno in difficoltà quando manca la liquidità esatto e questo rientra un po' nell'ambito delle cose che dicevamo di farsi trovare pronti nel momento di non stare solo lì a subire e a chiedere ovviamente il giusto ma essere pronti anche per il momento in cui la situazione ritornerà non alla normalità ma ancora meglio perché questo è l'auspicio che facciamo appunto non tornare a come si era prima ma fare se possibile due passi avanti essere pronti appunto anche attraverso una conoscenza di questi strumenti rassicuriamo siamo in chiusura anzi abbiamo anche sforato un po' ma possiamo farlo perché poi c'è una evoluzione diversa nella puntata di oggi e rassicuriamo tutti Masterfish si fa Masterfish si fa Masterfish lo ricordiamo è la trasmissione che Confesercenti realizza e ha realizzato l'anno scorso insieme a Rossini TV o viceversa scegliete voi Rossini TV con Confesercenti che è andata in stand by anche perché ovviamente si volgeva nei ristoranti per cui si può immaginare ricordiamo innanzitutto che è nata da una brillante idea di un certo Paolo Paglini grazie grazie si fa perché è tutto pronto praticamente questa bellissima intuizione che ha portato le telecamere dentro i ristoranti anzi dentro le cucine dei ristoranti dietro la quinta dove si vede veramente il lavoro la grande professionalità che questi ristoratori fanno mettendo insieme i grandi prodotti del nostro mare ma anche l'abbinamento con l'entroterra voglio ricordare qua la maestria di Otello Renzi che ci ha seguito in tutti i dettagli grande maestro della ristorazione ed è già pronto con i ristoranti già contattati tutto stiamo solo aspettando che si allenti un po' la presa di questo virus e ripartiremo ringrazio anche chi ha creduto sin dall'inizio in questa manifestazione cioè Banca di Pesaro certo e Spazio Conad Spazio Conad saranno nostri ospiti sono costantemente nostri ospiti e lo saranno anche nelle prossime settimane va bene allora noi abbiamo concluso ogni volta lo dico sempre perché mi viene in mente sempre ogni volta quando io parlo con gli ospiti dico di cosa parliamo eh di cosa parliamo quanto dura 20 minuti e poi dopo i 20 minuti passano in un amen e adesso se ne sono passati anche di più ma noi abbiamo avuto modo di raccontarci tante cose come sempre il salotto è aperto per cui ci saranno altre opportunità per adesso ringraziamo il direttore provinciale di Confesercenti ha anche altre 65 cariche per cui adesso ho difficoltà ogni tanto abbiamo deciso di non elencarle però oggi è qui in quel ruolo direttore provinciale Confesercenti Giorgio Bartolini che ringraziamo e qui diamo appuntamento a una prossima occasione adesso andiamo in pubblicità e poi siamo di nuovo in studio con Maurizio Gambini sindaco di Urbino grazie Bartolini grazie buona giornata di nuovo in studio di nuovo in diretta per Casa Rossini 351 708 9977 è il numero della nostra messaggeria Whatsapp per mandarci dei messaggi perché no anche delle domande al prossimo ospite che è qui con noi il sindaco di Urbino Maurizio Gambini buongiorno sindaco buongiorno buongiorno a voi eletto sindaco per la prima volta nel 2014 confermato al primo turno nelle amministrative del 26 maggio 2019 era stato consigliere comunale a Urbino dal 2004 no dal 99 al 2008 e dal 2004 al 2007 ha ricoperto il ruolo di assessore alla comunità montana dell'alto e medio metauro consigliere vicepresidente della provincia di Pesaro Urbino dal 2014 al 2017 consigliere dell'unione montana alta valle del metauro dal 2014 al 2017 quando è diventato vicepresidente dell'ente fondatore del consortio agricoltori biologici terra bio società cooperativa insomma c'è un bel elenco questo si desume dalla pagina dalla sua pagina personale dalla pagina dal sito web personale però oggi è con noi per il suo incarico appunto di sindaco di questa città a cui noi teniamo tanto insomma anche se poi i pesaresi in qualche modo hanno questo amore e odio con Urbino con cui condividono però il nome e il titolo di capoluogo di provincia o no? Sì condividiamo questo titolo a tutti gli effetti anche se c'è questo amore e odio ma io spero che diventi sempre più amore perché credo che siamo in un momento storico dove abbiamo bisogno proprio per crescere di condividere il territorio di condividere di eliminare quelle divisioni tra entroterra non solo con Urbino e Costa perché se nel futuro vogliamo far sviluppare il nostro territorio e vogliamo farlo conoscere adeguatamente dovremmo chiamarci con un nome solo perché chiamarlo perlomeno riconoscerci in un territorio bellissimo che sicuramente il mare ha bisogno dell'entroterra l'entroterra bisogna del mare che della costa quindi ecco io spero che si possa continuare a percorrere una strada comune e condividere le cose perché le guerre non servono in generale nel pianeta tantomeno servono qui nel territorio in scaletta mi ero preparato i temi caldi del momento però visto il flusso che ha preso il ragionamento forse è il momento già di dire che questi obiettivi potrebbero essere gli obiettivi da raggiungere attraverso per esempio questa candidatura capitale europea della cultura che sembra lontana perché il 2033 è lontano come punto d'arrivo però la candidatura è già un'iniziativa è già un'operazione e potrebbe funzionare in quella direzione di cui stiamo parlando io ho aderito può avvicinarsi leggermente ho aderito volentieri devo dire alla proposta del sindaco di Pesaro seppur fatta magari in modo non proprio adeguato però ho detto ho condiviso nell'interesse del territorio veramente delle città che rappresentiamo un percorso già che si è attivato da fine 2019 con un protocollo di intesa tra Pesaro e Urbino sottoscritto deliberato è sottoscritto dai due sindaci da me e dal sindaco Ricci proprio per questo percorso della candidatura 2033 a Capitale Europea della Cultura perché insieme ce la possiamo fare l'obiettivo è diventare Capitale Europea ci sono i due argomenti principali che ci sono scritti in questo documento che abbiamo sottoscritto insieme di comunque condividere definitivamente questo percorso che le due città sono capoluogo di provincia è un caso unico in Italia quindi anche questa peculiarità ci può aiutare proprio allo scopo e soprattutto unire le due città da un punto di vista della viabilità e della connessione perché veramente siamo vicini ma troppo lontani troppo lontani anche dal territorio dell'entroterra con la costa e viceversa quindi l'obiettivo di questa candidatura è strutturare la provincia strutturare questa provincia fra l'altro questo progetto è condiviso pienamente dall'attuale presidente della provincia ma dal consiglio provinciale perché è sottoscritto anche dalla provincia di Pesorurbino quindi questo territorio con quel documento ha avviato il percorso che è stato diciamo interrotto un po' da questa pandemia perché non possiamo incontrarci diventa complicato però i prossimi mesi devono essere i mesi dell'attuazione di questo progetto mentre parlavamo scorrevano dalla regia le immagini veramente suggestive ed emozionanti di Urbino vista da tante angolazioni che effetto fa al sindaco di Urbino sapere che è il sindaco di quel territorio non solo di quella cittadinanza ma anche di quel territorio la responsabilità di tanta bellezza diciamocelo di tanta storia di tanta arte di tanta cultura si sente anche in un ruolo amministrativo come quello di un sindaco? Sì devo dire che io da cittadino non mi sono mai accorto così pienamente di dove vivevo e di dove ho percorso i passi nella mia vita lavoravo io sono un imprenditore lei l'ha sottolineato nella presentazione faccio il sindaco per caso dico perché la mia vita è stata sempre volta all'impresa è quella che comunque vorrei comunque tornare perché la continuo a fare ma non a pieno come vorrei ma mi sono reso conto veramente solo dopo di essere diventato sindaco che essere sindaco di una città come questa fa tremare i polsi fa tremare i polsi perché l'emozione e il privilegio che si ha ad essere sindaco di una città come questa con tutto quello che ha rappresentato nella storia e quello che è veramente fa tremare i polsi o le gambe quindi l'ho fatto ho cercato di farlo con serietà con costanza per mantenere quando mi dicono arrivano le persone dicono che città bellissima lo dico sempre non ne l'abbiamo fatta noi però cerchiamo di mantenirla al meglio e in questo ci stiamo riuscendo e adesso torniamo invece da quello da cui saremmo dovuti partire purtroppo dall'attualità come sta andando l'ospedale di Urbino? Abbiamo avuto questo momento di crisi qualche giorno fa che sta rientrando perché veramente noi nell'obiettivo di dare un ospedale no covid a tutta la provincia dobbiamo cercare di preservarlo e l'obiettivo era questo dall'inizio devo dire devo ringraziare gli organi regionali l'assessore Salta Martini Alessia Morani che ha attivato subito a livello di governo centrale l'allarme diciamo così e ieri ci sono stati visite anche della marina militare quindi dell'esercito per cercare di darci supporto sono rientrati i positivi Urbino che erano solo di transito nel triage di individuazione dei positivi che poi venivano trasferiti dalla seconda ondata subito sugli altri ospedali ospedali diciamo non di terapia intensiva ma ospedali normali perché per fortuna l'aspetto positivo è che non ci sono molti da terapia intensiva che vengono rilevati all'ospedale Urbino però dai 15 che eravamo arrivati sabato scorso ieri eravamo 4 quindi gli ospedali del territorio hanno potuto riceverli quindi questo ci dà più tranquillità e si riaprono da oggi mi ha detto ieri il direttore Cani che si riaprono anche le visite dei familiari a chi è ricoverato nelle diverse reparti e da lunedì martedì prossimo si dovrebbero riaprire anche le unità che si erano chiuse i reparti che si erano chiusi quindi ecco la situazione senza dirlo troppo forte ma sta rientrando nei canoni nel male diciamo possiamo dire che l'applicazione tempestiva di evidenti protocolli di emergenza funzionato sta funzionando insomma e questo è sempre bello a notarlo perché vuol dire che insomma certe regole certi meccanismi attivati funzionano sì assolutamente devo dire che quello che è stato attivato per esempio è quello che dobbiamo fare e oggi da noi oggi parte ad Urbino ma vorrei questa sera abbiamo la riunione con i sindaci della nostra ambito sociale della nostra Unione Montana per attivare un numero dove ci sia qualcuno che quelli quei malati che magari sono a casa di covid e magari fanno fatica a capire come si devono muovere possono chiamare a questo numero perché magari vengono di una risposta da parte del personale che abbiamo messo a disposizione con l'associazione Il Vascello perché era stata la prima disponibile a farlo immediatamente perché è importante questo lo dico ai nostri cittadini che guarda a casa stamattina mi diceva l'operatore che ha chiamato subito uno di peso l'uno di gradara quindi anche se è il servizio per Urbino ma ecco dovremmo calibrarlo perché chiaramente le persone che si sentono a casa magari che non hanno avuto ancora una visita ad un medico non sanno come muoversi ecco dare indicazioni perché abbiamo un sistema devo dire sanitario che in questa seconda ondata è stata ha funzionato abbastanza bene le usche che sono state attivate se curano insieme ai medici di famiglia le persone a casa non dobbiamo ospitalizzarli quindi questo è un aspetto molto importante e poi sicuramente non arrivare ad essere nella malattia acuta fa sì che si salvano le persone perché sappiamo che le terapie che i medici riescono ad attivare che il sistema riesce ad attivare nella prima ondata non si conoscevano bene e si è stati dei tentativi ma questa in seconda ondata se i malati si curano subito anche quelli sintomatici scusate sicuramente si riesce a debellare bene la malattia e a superarla se invece si aspetta che si attivano delle complicazioni poi diventa un problema e si rischia anche il peggio esatto ci siamo sentiti al telefono prima di oggi e questa è un po' la sua visione la visione di una medicina generale di medici di famiglia che facciano il lavoro quello diffuso e preventivo quasi cioè è un preventivo successivo ai primi sintomi però è un preventivo rispetto poi all'arrivo invece in ospedale questa è un po' la sua visione assolutamente credo che i medici di famiglia i medici di medicina generale che soprattutto sempre ma soprattutto in questa fase hanno una funzione importantissima e pongo a loro l'attenzione veramente di chiedere il supporto alle amministrazioni se ne hanno bisogno perché noi siamo pronti a dargli il supporto perché assumono un'importanza come ho detto lei fondamentale nel superare questa pandemia i medici di medicina generale perché poi è un fatto anche psicologico essere a casa io ho avuto dei casi che mi hanno chiamato anche personalmente di persone che magari erano diversi giorni che erano a casa con la febbre è un supporto psicologico di un medico che va a casa anche se magari non può fare molto non potesse fare molto ma aiuta anche psicologicamente a superare la situazione perché la depressione aiuta la malattia non aiuta a uscirne poi quando sei a casa che non viene nemmeno il medico dice allora diventa preoccupante a che punto è il numero comunale per l'assistenza numero unico comunale per l'assistenza quello di cui è attivo da oggi pomeriggio ah per cui un'anteprima fresca fresca per i telespettatori di oggi pomeriggio sì devo dire che stamattina ero col dottor Benedetti che sarà la persona che risponde è un medico diciamo in pensione è un medico molto stimato nel territorio si avvarrà anche di supporto di altre persone ovviamente perché ancora non era partito il servizio ma già stamattina come dicevo prima gli sono arrivate le telefonate ma di persone che volevano sapere semplicemente dopo il ventunesimo giorno se possono uscire se è meglio uscire o non uscire quindi chiedere anche così dei consigli di come muoversi questa è la funzione l'unica funzione di questo numero aiutare le persone a orientarsi esatto anche perché ce n'è bisogno perché effettivamente questo proliferare di indicazioni di segnalazioni e poi una scade entro un'altra eccetera pur se probabilmente inevitabili creano un certo sconcerto una certa difficoltà interpretativa il 2020 era l'anno di Raffaello entriamo nelle cose belle barra brutte ma belle insomma e cominciamo a ragionare un po' anche di quando tutto questo sarà un ricordo il 2020 era l'anno di Raffaello era anche l'anno che a Pesaro si voleva celebrare degnamente Rossini insomma era un anno che non si poteva perdere invece l'abbiamo dovuto perdere cosa succede adesso? ma diciamo che anzitutto credo che non l'abbiamo perso completamente perché noi abbiamo avuto i primi due mesi del 2020 che abbiamo avuto delle presenze altissime nel nostro comune ma la percezione di questo grande artista nel territorio comunque si è sentito anche come coscienza dei cittadini che siamo veramente in un territorio che ha espresso tantissimi talenti standoci spesso ci si dimentica sì spesso ci si dimentica abbiamo avuto grandissime grosse presenze in estate nel periodo che si poteva anche con le mostre in atto e tutte le attività quindi questo percorso noi vorremmo continuare lo continueremo anche nel 2021 sperando che la pandemia venga debellata velocemente il più velocemente possibile ecco perché vogliamo continuare queste celebrazioni che abbiamo dovuto fare e continuando anche con le attività che vorrei che condividessimo con tutto il territorio faccio un appello io sono stato promotore insieme al mio prosindaco ex assessore Vittorio Sgarbi che abbiamo fatto delle iniziative insieme a Pesaro insieme a Fano per tre anni consecutivi che hanno dato buoni risultati questo su questo tema dobbiamo insistere dobbiamo far percepire che Urbino Fano Pesaro tutto il territorio è un territorio bellissimo che vale la pena di venirci a visitare ma soprattutto anche venirci ad abitare perché in questi territori è la promozione che vorrò lanciare che ho detto già da tempo ma che vorremmo promuovere assolutamente che visto adesso che con questa pandemia abbiamo capito che si può anche lavorare a Milano e vivere qui esatto è bene promuovere questo fatto perché nei nostri territori io devo dire che si vive credo che nessuno si possa smentire che si vive bene perché abbiamo Pesaro a due passi con tutta la storia della musica teatro entroterra bellissimo delle città d'arti come Urbino ma tanti altri luoghi del nostro Monte Feltro quindi vivere qui ecco si può vivere nel nostro territorio dell'entroterra ed essere al centro del mondo quindi ecco io spero che il futuro ripopoli i territori di tutta la nostra regione di tutta la nostra provincia una sorta di programmazione turistica e non solo per la fine pandemia praticamente sì e a fine pandemia io spero che la gente si accorga ancora di più cogliamo sempre gli aspetti positivi io sono uno di più positivo nella vita e colgo sempre l'aspetto positivo l'aspetto positivo è che abbiamo visto che forse si vive meglio questa è la percezione che sento anche dire un po' in giro che sui territori vivere in città se magari non hai la possibilità neanche di uscire sicuramente se sei in campagna io sono stato isolato per 15 giorni a casa fortunatamente vivo in campagna e sono stati i 15 giorni più belli della mia vita perché non avevo niente da fare lavoravo per telefono ma ho curato il mio giardino ho piantato delle piante ho fatto delle cose bellissime che veramente sono stato un momento bello della mia vita devo dire io mi onoro di essere amico di Andrea De Carlo tra l'altro figlio dell'architetto che ha dato tanta parte l'impronta a Urbino e lui ha questa casa nei paraggi nella quale si ritira quando deve rifinire i suoi libri e insomma potrebbe funzionare anche come idea andare a scovare questi personaggi illustri e farli funzionare come testimonial residenti non testimonial turistici sicuramente questa è un'idea di rilancio del vivere in questi territori e non concentrarci tutti magari nelle aree perché se io una sera lo dicevo prima se ho voglia di andare a teatro a Pesaro con tutte le iniziative che ha ci vado in un minuto in poco tempo magari con le strade che dobbiamo fare esatto e lì arriviamo e lì arriviamo e lì arriviamo perché appunto il ragionamento che esce dall'ambito ristretto del perimetro delle mura per intenderci e diventa invece un ambito territoriale per proporlo anche verso l'esterno presuppone però che all'interno ci si possa muovere bene e mi sembra e credo che uno dei suoi punti chiave scherzando abbiamo detto fa punteggio anche nel dossier della capitale della cultura sia questa viabilità a Pesaro Urbino che in questo momento non la soddisfa no non soddisfa a me ma credo che non soddisfi tutti e quello che ho colto nel sindaco di Pesaro con cui ho a volte anche degli scontri perché io non è che andiamo sempre d'accordo però abbiamo colto pienamente il fatto che se Urbino fosse più vicino a Pesaro è un beneficio grandissimo anche per Pesaro ecco se tutti quanti noi capiamo che insieme siamo un territorio unico lo siamo già però diventiamo ancora più speciale è che se avessimo una strada da Urbino per Pesaro ci sono già due progetti non c'è bisogno neanche di fare molto fatti già molti anni fa si tratta solo e l'obiettivo che ci siamo posti insieme al sindaco di Pesaro è quello proprio di realizzare questa strada perché avvicinare Urbino a Pesaro vuol dire avvicinare tutto l'entroterra e continuare magari non parliamo della Fano Grosseto non parliamo della ferrovia anche le ultime idee lanciate dall'amico collega Ucchielli che dice facciamo una metropolitana di superficie va tutto bene però io ho una priorità la strada Pesaro-Urbino perché i cittadini di questi territori se l'aspettano dal 1960 è ora di farlo i progetti cosa prevedono? una strada a scorrimento veloce con gli svincoli come sono adeguati ai tempi che viviamo perché anche la Monte Labattese con tutte le rotatorie insomma non è che proprio sono funzionali al massimo pericolose quindi dobbiamo siamo vicini se pensiamo a Rimini e San Marino San Marino un bellissimo posto che io apprezzo molto ma non ha confronto con la città di Urbino con la storia della cultura eppure se io vado al mare a Rimini in dieci minuti la sera vado a San Marino e quindi sarebbe quello che possono fare e l'offerta turistica può fare in più Pesaro tutta la costa della nostra avendo la città a dieci minuti di auto ecco vengo al mare a Pesaro però poi la sera vado magari a fare una passeggiata a visitare il Palazzo Ducale sperando che appunto sia aperto H24 o perlomeno H12 perché ecco non abbiamo solo il Palazzo Ducale perché se andiamo sull'entroterra la Rocca di Sasso Corvaro tutte le città del nostro Durbania Fermignano che sembra che non abbia nulla invece ha una storia con Bramante abbiamo una storia veramente da raccontare dei luoghi bellissimi da vivere dobbiamo avvicinarli alla costa dove c'è il flusso maggiore di persone ma questi progetti sono fermi sono in fermento c'è un problema economico c'è un problema ambientalistico cioè dove è il problema perché non si fanno il problema di questo paese non sono i soldi e questo è il problema perché tutti aspettano questi soldi dell'Europa ma se noi in questo paese abbiamo 170 miliardi non è che lo dico io lo dicono i dati di opere finanziate non realizzate cioè se ce ne danno altri 200 rischiamo di spenderli fra 10 anni ecco e non servono quindi io dico sempre i soldi è l'unica cosa che non ci manca lo dico chiaramente come battuta provocatoriamente però ecco se noi guardiamo i soldi le strutture io se finisco il mio mandato tra 4 anni e ho speso i soldi che ho le opere che ho già finanziato è grasso che cola certo purtroppo in questo paese non si riescono a fare le opere l'altra sera vedevo un economista che diceva bisogna che si fanno le nuove normative non con le virgole con l'accetta con l'accetta bisogna fare tre regole che fanno partire le opere pubbliche perché l'università di Urbino ha 40 milioni di euro di opere già finanziate il comune di Urbino ha 16 milioni di euro di opere già finanziate Pontarmellina Canavaccio non le sto a fare l'elenco già finanziate che non riusciamo a sbloccare perché ci vogliono i tempi tecnici il ponte di Genova se non fosse stato per aver derogato qualsiasi cosa l'avevamo fra 7-8 anni invece in un anno si è riuscita a farle quindi è chiaro che ci vogliono i soldi per fare la strada a peso Rubino ma ci vogliono anche perché le risorse ci sono se abbiamo il progetto da presentare questo è l'obiettivo che ci siamo posti col sindaco di Pesaro entro due anni dal gennaio 2020 che adesso slitterà un po' che il progetto venga presentato definitivamente e fatto finanziare dal ministero perché avvicinare Rubino a Pesaro vuol dire cambiare la storia di questa provincia poi funziona anche al contrario nel senso diventa attrattivo anche per gli studenti che non mancano però che a quel punto lì sanno che sono in una città alla periferia del mare insomma che cambia fa avere voglia di stare un po' di più la nostra università veramente che sta anche crescendo in termini di abbiamo avuto il magnifico rettore lunedì con noi ci ha raccontato di queste sicurezza dei record addirittura dei record che stanno raggiungendo però dobbiamo dargli servizi dobbiamo dargli agevolazione nell'avvicinarsi appunto al treno alla strada all'autostrada ad essere raggiungibili quindi ecco cerchiamo di lavorare tutti insieme perché ho messo in programma già sotto le feste di Natale di tornare a trovare il mio collega di Pesaro perché voglio veramente cominciare a lavorare anche se siamo in lockdown o comunque siamo in chiusura e non possiamo muoverci però insieme al di là di chi ci sarà a Roma perché a un certo punto la politica purtroppo sarebbe meglio superarla superarla per la politica è importante perché senza politica c'è la dittatura quindi è un aspetto importante però parliamone più avanti della politica e cerchiamo di andare avanti con un governo che ci dia le giuste dritte e allora oltre aver messo in programma di venire a parlare col sindaco Ricci mettiamo in programma anche poi un aggiornamento dopo qui a Rossini TV l'aspettiamo per aggiornarci su tanti temi che avevamo appuntato ma che non abbiamo neanche fatto in tempo ma non perché ci siamo dimenticati ma perché erano talmente importanti e ben argomentati quelle di cui abbiamo parlato che insomma il tempo è andato in maniera proficua ringraziamo il sindaco di Urbino Maurizio Gambini per essere stato con noi gli diamo appuntamento appunto a una prossima occasione adesso andiamo con la dedica che è una dedica musicale avevamo scelto la sigla di Happy Days c'è anche la dedica e il risultato del sondaggio abbiamo fatto un sondaggio sindaco stamattina su chi preferisce la colazione dolce e chi preferisce la colazione salata il dolce vince 67 a 33% il dolce vince per oggi poi non è detta che nei prossimi giorni buongiorno casa Rossini sono Emma vorrei congratularmi con mia sorella Anna Maria per il suo esame di biologia finalmente superato a pieni voti con la valutazione di Trento Lode e poi noi di Rossini TV vogliamo ringraziare tutti quelli che ci seguono tramite la diretta Facebook qualche nome annotato Daniele Roberto Francesca Alessandra Carla ciao e grazie per essere con noi anche dalla diretta Facebook ma naturalmente il canale prioritario è il 633 il canale televisivo del digitale terrestre e adesso andiamo con la dedica appunto dalla sigla di Happy Days ringraziamo ancora una volta il sindaco Gambini per essere stato con noi e ci vediamo subito dopo con Francesca Tricca Happy Days un balzo indietro nel passato ciao Francesca come stai? buongiorno buongiorno sto molto bene grazie Paolo anche tu avevi seguito tutte le puntate di Happy Days all'epoca dal 80 più o meno dal 77 mi sembra in Italia sono andati in onda dal 77 in poi oppure avrei visto qualche replica perché sei giovanissima per cui non puoi in diretta in diretta quando le mandavano in prima mese in onda insomma io invece sì ahimè io guardavo la puntata alle 8 di sera mi sembra o poco prima o poco dopo il telegiornale della sera esatto molto bello eravamo in montagna era divertente allora Francesca Tricca nata il 13 gennaio collaboratrice di Rossini TV poi dopo ci entriamo nel discorso nata il 13 gennaio io vado a scoprire qualcosa dal librone perché con gli altri ospiti non ho fatto in tempo sai c'era sempre un po' di fretta invece con te due chiacchiere in più le voglio fare il 13 gennaio è il giorno dell'ascesa dice il librone i nati il 13 gennaio presentano la particolare tendenza ad accrescere la propria sicurezza cercando di raggiungere una condizione più agiata va bene mi sembra un bel augurio un bel auspicio va bene per tutti esatto va bene per tutti questo sono nati in questo giorno John Joseph Pershing che è un generale statunitense Lev Kuselov che non so chi sia teorico e cineasta sovietico e poi nei pregi abbiamo determinata orgogliosa e autonoma nei difetti li vuoi sapere o li lasciamo perdere li dico determinata a ogni costo questo non mi sembra un difetto paurosa e isolata sì no direi di no Francesca Tricca mamma e tra l'altro imprenditrice mamma di tre vero c'è di tre ragazzi di tre ragazzi perché ormai i bambini non si possono più definire mi sa finalmente collaboratrice fissa di Rossini TV finalmente finalmente mi piace pensare che sia un bel punto di partenza per tutta l'attività ma anche di arrivo per un bel percorso mi sbaglio è stato un percorso molto intenso ma allo stesso tempo molto bello perché io ho iniziato la collaborazione con Rossini TV nel novembre del 2018 quando abbiamo festeggiato il primo compleanno di Rossini TV ed Emanuela Rossi ha avuto fiducia in me permettendomi proprio di intervistare gli ospiti di quella bellissima festa di quel bellissimo evento e da lì è iniziata poi una collaborazione quindi mi sono occupata della conduzione degli speciali televisivi questa passione cresceva sempre di più l'interesse per il nostro territorio quindi girando all'interno dei vari posti vari ambienti l'ultimo me lo sono studiato ieri il 7 gennaio sei andato in mezzo alla neve dove è che sei andato il 7 gennaio? ho fatto diverse esperienze era anche freddo l'ultimo servizio che hai fatto visto che avevano fatto delle belle carrellate sulle cime indevate era il castello di Frontone dove abbiamo seguito in maniera attenta una conferenza molto interessante organizzata dalla regione Marche dove si è parlato di agricoltura quindi del mondo rurale e abbiamo fatto un approfondimento attraverso questa bella realtà del nostro territorio c'è stata una tavola rotonda di tipo informativo dove la regione sta prendendo tutti gli spunti necessari affinché si possano fare quei passi che servono proprio per rilanciare la nostra economia soprattutto il sistema rurale anche tu come me slalomista tra i temi nel senso che si va dalla bellezza alla discoteca a intervistare tra l'altro ha intervistato in anteprima per Rossini TV il presidente Acquaroli ha intervistato il vice presidente Carloni che tra l'altro saranno ospiti di Casa Rossini in una delle prossime puntate insomma voglio dire si spazia anche io mi sono divertito così sono passato veramente dai temi forse questa è una delle esperienze più belle che ci offre Rossini TV assolutamente assolutamente sì perché ci dà la possibilità di girare il territorio e incontrare le persone persone di vario tipo e interfacciarsi con eventi che caratterizzano il nostro territorio di vario tipo quindi parliamo di cultura informazione a 360 gradi sport approfondimenti intrattenimenti di ogni genere il castello di Gradara con Magic Castle acqualagna con il tartufo insomma ne abbiamo fatte davvero di ogni ne abbiamo fatte tante e l'auspicio è quello di continuare in maniera molto produttiva e soprattutto dinamica smart divertente attraverso il nostro territorio perché comunque Rossini TV è una televisione molto dinamica Paolo e qualcuno in questo momento si starà domandando benissimo noi Francesca la conosciamo abbiamo visto gli speciali sono due anni che la vediamo l'abbiamo seguita con le Academy di Stella che è stata ospite con noi l'altro ieri insomma tutto quanto dove è la novità perché è ospite di Casa Rossini e cosa ha di nuovo da raccontarci oggi vi racconto ecco che cosa è cambiato da inizio 2021 sono stata accolta a braccia aperte da tutto lo staff di Rossini TV per diventare finalmente una collaboratrice full time e infatti mi occupo di comunicazione a 360 gradi seguendo soprattutto la parte commerciale quindi sarò proprio il trade union tra la televisione stessa e tutti coloro che hanno intenzione di apparire in televisione per presentarsi mostrarsi e soprattutto aprire le proprie porte aziendali e raccontare raccontare di sé raccontare dei propri prodotti raccontare quelle che sono le proprie realtà ovviamente i nostri rapporti sono rapporti con clienti di grandi medie piccole aziende ovviamente abbiamo a che fare con le istituzioni le associazioni di categoria e quindi diciamo che il bacino di utenza di Rossini TV è davvero grande è tutto il bacino della regione Marche infatti possiamo dire e ribadire perché magari qualcuno lo sa qualcuno non lo sa Rossini TV visibile sul canale 633 del digitale terrestre raggiunge tutta la regione Marche ed è molto molto forte soprattutto nella provincia di Pesaro Urbino proprio perché la sede di Rossini TV è Pesaro comunque ecco l'obiettivo per questo 2021 è riuscire ad entrare in maniera sempre più capillare su Pesaro Pesaro è provincia Urbino ma assolutamente riuscire a entrare anche nelle altre parti del nostro meraviglioso territorio con servizi approfondimenti interviste proprio per far conoscere le belle realtà che caratterizzano la nostra meravigliosa regione Marche noi poi siamo un territorio di frontiera perché ricordiamo che a pochi chilometri 12 chilometri c'è il famoso tavolo che ci divide dall'Emilia Romagna per cui come località di frontiera ricordiamo che i vincoli di legge impongono che il segnale del digitale terrestre sia regionale per cui si rispettano i limiti fisici o meglio politici del confine territoriale della regione ma c'è qualcuno che magari ci vuole vedere da Cattolica ci vuole vedere da Rimini da Riccione allora per tutti questi qua io ho anche un sacco di amici in giro per l'Italia che mi dicono ma ti si può vedere per tutti questi qua ricordiamo che c'è la possibilità offerta dalla tecnologia di seguire alcune dirette sulla pagina Facebook e tutta la programmazione in diretta sul sito www.rossegnitv.it ed è uno strumento fondamentale perché vi permette innanzitutto di portarci sempre dietro vi potete prendere e portare la televisione dove siete in ogni momento in ogni pausa mentre siete in una sala d'aspetto o qualunque cosa e poi di appunto raggiungerci dovunque da qualunque parte d'Italia anzi da qualunque parte del mondo perché poi il web dà questa possibilità ma noi siamo una televisione ricordiamolo sempre principalmente lo strumento è quello della televisione e una cosa molto interessante sono stata a contatto con il rappresentante dei marchigiani all'estero e sono davvero tanti i marchigiani che da varie parti del mondo seguono quello che succede nella nostra regione e quindi sarà sicuramente molto interessante pensare di aprire una collaborazione per poterci far seguire proprio da questi marchigiani all'estero potendo raccontare ed entrando nelle case chissà magari di New York di altri posti sparsi nel mondo e farci vedere e farci seguire quindi raccontare delle pillole delle briciole di casa di casa di cuore di realtà territoriali proprio anche in giro per il mondo penso che mio padre Carlo è stato contattato qualche giorno fa attraverso Facebook perché mio padre è attivissimo lo sappiamo tutti ma lo diciamo ogni tanto anche con i social da una persona che vive in Argentina e che si è fatto portavoce di una comunità di pesaresi non marchigiani addirittura pesaresi in Argentina che hanno conservato siccome sono pesaresi di seconda alcuni di terza generazione hanno conservato il dialetto pesaresi di quella volta non modificato come magari i pesaresi di oggi nostri invece dall'uso quotidiano di una lingua che si è modificata per cui per dire anche una ricerca di questo genere quando magari proponiamo una cosa del dialetto di un tempo chi va a immaginarsi che lo si può proporre a degli argentini di terza generazione che provenivano da Pesaro io e Francesca ci conosciamo da un po' di anni io sono passato attraverso diverse vite di Francesca appunto la vita da imprenditrice e poi un periodo associativo in cui facevi qualcosa con i bambini e tutto il resto un'ipotesi anche di essere coinvolti in un'attività insieme di collaborare ma non mi aspettavo che tra i tuoi libri preferiti che hai messo su Facebook c'è questo io non lo so perché l'hai messo perché questo è il mio libro e io non so come vai io ho detto vado a vedere su Facebook i suoi libri preferiti e scopro appunto che c'è l'ultima vita questo è il mio libro l'hai veramente letto oppure l'hai messo solo perché mi conoscevi e hai detto vabbè adesso lo metto puoi essere sincera e puoi dire anche è lì pronto da leggere è lì pronto da leggere ma ho un ricordo molto bello in merito a questo libro e quindi l'ho messo su perché c'è stata un'emozione un'emozione che abbiamo condivisa durante la presentazione di questo libro mi ricordo fu un incontro tra poche persone ma molto diretto molto bello molto entusiasmante e quindi io ho avuto questo bel proposito di poterlo leggere non l'ho letto però ecco un pochino arriverà io sono di quelli che sostiene la famosa filosofia un po' così un po' new age del fatto che il libro si fa scegliere e decide il libro quando è ora di essere letto c'è il tempo giusto in cui riaffiorare io volevo approfittare visto il ruolo che ricopro qui su Rossini TV di responsabile della comunicazione e per il fatto che seguo le aziende per quanto riguarda la loro comunicazione volevo un attimino fare l'escursus di quelli che sono i nostri servizi che possiamo offrire alle aziende che ci seguono che hanno già collaborato con noi che continueranno a collaborare con noi ma anche tutti quei potenziali che magari fino adesso non hanno pensato che il canale televisivo potesse essere il mezzo giusto per poter parlare di sé e magari ascoltandoci e vedendoci oggi possono prenderlo in considerazione ricordatevi tutti che comunicare vuol dire esistere quindi comunicare significa mettere in luce quello che è il proprio prodotto comunicare significa raccontare la propria azienda farsi conoscere sul territorio e quindi è possibile attraverso i servizi di Rossini TV effettuare degli approfondimenti si possono realizzare degli spot televisivi della durata di 20 secondi che vengono replicati mandati in onda replicati tante e tante volte in maniera ridondante affinché il messaggio forte sia fortemente recepito nel territorio gli spot sono spot curati nei minimi dettagli perché seguiti da professionisti quindi nel montaggio le grafiche lo spicheraggio i titoli di coda insomma lo spot è veramente un signore spot allo stesso tempo possiamo fare degli speciali televisivi quindi proprio una camminata all'interno delle realtà aziendali proprio un racconto uno storytelling dell'azienda facendo delle domande al titolare raccontando qual è la sua storia qual è la storia dell'azienda parlando dei collaboratori che fanno parte dell'azienda perché dopo tutto le belle realtà sono fatte dalle belle persone raccontiamo anche i prodotti perché comunque il prodotto che collochiamo sul mercato sul territorio è ciò che ci dà da mangiare quindi lavoriamo per un determinato prodotto va promosso e quindi ecco anche attraverso questi speciali televisivi di approfondimento all'interno delle aziende ma anche quindi degli eventi un porte aperte il lancio prodotto il cambiamento di qualcosa all'interno delle attività commerciali un pochino tutto poi abbiamo messo abbiamo organizzato anche dei format no? qui all'interno dei nostri salotti televisivi quindi le varie istituzioni le varie associazioni hanno già fatto faranno sicuramente ancora questi format sono dei pacchetti 5-10 pacchetti in cui si affrontano degli argomenti di approfondimento sono davvero molto molto interessanti perché i format che abbiamo visto hanno promosso degli approfondimenti davvero interessanti sulla salute sul benessere sul territorio quindi cose davvero davvero molto molto interessanti siamo aperti ovviamente a collaborazioni di vario genere perché occupandoci di comunicazione possiamo essere proprio un supporto un aiuto anche per le realtà un pochino più piccole che magari non hanno investito non hanno puntato più di tanto sulla comunicazione ecco ma possiamo collaborare anche con dei suggerimenti per migliorarsi quindi assolutamente contattateci e prenderemo un appuntamento dovete sapere che dall'altra parte c'è Francesca perché questa poi è la parte bella della situazione tutto questo è la descrizione della tv ma in questo momento tutto si concentra su qualcuno che dall'altra parte del telefono o comunque della mail c'è e che adesso oggi da oggi conoscete ed è appunto Francesca Tricca che non solo ha questo ruolo ma in qualche modo fa da collettore tra tutto il mondo di quelli che ruotano attorno a Rossini TV e la direzione e la regia perché poi anche questo ruolo qui è importante di smistare smistare il traffico è molto importante lo smistamento il coordinamento e siccome siamo una televisione di qualità ci teniamo affinché tutti i risultati siano di alto livello quindi ci distinguiamo proprio per una grande correttezza una grande onestà la parola data conta e chi collabora con noi è soddisfatto e questo è l'obiettivo con cui ci svegliamo tutte le mattine e con cui collaboriamo tutti insieme durante la nostra giornata io sono molto contenta di come sono stata accolta qui i miei colleghi sono tutti colleghi eccezionali che avevo già avuto modo di conoscere ad oggi vi ringrazio tutti per come mi avete accolta per come mi fate sentire qui dentro si sta veramente bene è come stare a casa e quindi veramente grazie a tutti a dirlo a me questo divano io bisogna che me lo porto via quando finirà la trasmissione quest'estate perché proprio è il divano dove sto più comodo è la poltrona dove sto più comodo e più volentieri il salotto di casa Rossini nel quale oggi abbiamo avuto con noi Giorgio Bartolini direttore provinciale con Fesercenti Maurizio Gambini sindaco di Urbino e Francesca Tricca che ci ha spiegato qual è questo suo nuovo ruolo account manager potremmo in inglese meraviglioso va bene ti piace? account manager account manager di Rossini TV praticamente la persona con la quale avrete a che fare nel momento in cui vi viene in mente questa bella idea di interagire per la vostra attività per la vostra associazione comunque per farci sapere della vostra esistenza attraverso i canali di Rossini TV Francesca io ti ringrazio e naturalmente ricapiterà perché poi tu sei alla porta a fianco per cui ti enti pronta perché per adesso è sempre andata bene che non abbiamo mai avuto dei no show praticamente di quelli dell'ultimo minuto però ti enti pronta perché eventualmente se c'è qualche ospite che non si dovesse presentare io ti chiamo e ci buttiamo nella mischia la mia caratteristica è quella di essere seduta sempre così quindi sempre pronta per scattare quindi Paolo tranquillo chiamami quando vuoi perfetto ringraziamo allora tutti i telespettatori di Rossini TV per essere stati con noi in questa prima settimana della ripresa dopo la pausa natalizia di Casa Rossini andremo avanti l'appuntamento è con la diretta di lunedì prossimo naturalmente ricordo che questo programma come ogni puntata di Casa Rossini va in replica anche il pomeriggio alle 16 la sera alle 22 e il giorno dopo alle 15.30 e poi domenica pomeriggio la lunga maratona che riassume le tre puntate della settimana in diretta comunque l'appuntamento è per lunedì prossimo grazie a tutti restate sempre in visione del canale 633 Rossini TV è sempre con voi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti